Lo hanno trovato in un casale rurale fra le frazioni di Cugiano e Pieve di Compresseto nel comune Umbro di Gualdo Tadino. Dopo essere trapelata ieri, la notizia dell'arresto di Federico Marcelli, 49enne pesarese latitante dal 15 novembre, è stata oggi ulteriormente argomentata attraverso il report d'indagine dei carabinieri che hanno catturato l'ex ristoratore sul quale pendevano due condanne per stupro, violenze e maltrattamenti nei confronti di due donne. Condanna complessiva di 10 anni e 4 mesi che era in odore di conferma dalla Cassazione in questo mese di dicembre. Dal 15 di novembre, data in cui Marcelli ruppe il braccialetto elettronico fuggendo dagli arresti domiciliari dalla residenza della madre a chiusa di Ginestreto, le indagini dei carabinieri si sono concentrate subito sulle tracce del fuoristrada acquistato pochi giorni prima con il quale Marcelli è fuggito. Setacciando i movimenti dell'auto attraverso le telecamere poste sugli itinerari stradali, le ricerche si sono subito canalizzate al confine tra Marche e Umbria. Le sinergie fra i carabinieri pesaresi e le indagini tecniche del ROS di Roma hanno consentito di circoscrivere la zona di latitanza ad un'area di circa 10 chilometri di raggio, compresa fra i comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica. E allora ha partito un monitoraggio capillare con vigili del fuoco e polizie locali, fino a quando domenica è stato ristretto il cerchio ad un piccolissimo abitato in area rurale, individuando un casolare di campagna a due piani in cui il latitante si era effettivamente nascosto. I carabinieri di Pesore e Gubbi hanno dunque fatto irruzione nel casolare, constatando che il latitante aveva in vano provato a scappare, infilandosi in una tenda mimetica allestita nei campi retrostanti l'abitazione. Anche la macchina utilizzata per allontanarsi da Pesore è stata trovata chiusa nel granaio sul fianco del casolare. Una volta fermato, all'uomo sono stati notificati il decreto di latitanza e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È stato trasferito nel penitenziario di Perugia. Sono attualmente al vaglio della procura di Pesaro le eventuali responsabilità di chi ha favorito la latitanza dell'uomo.